Prende il via ufficialmente il progetto presentato lo scorso luglio per favorire la formazione in particolare per i ragazzi del Vallo di Diano di età compresa tra gli 11 e i 17 anni. Un progetto che vede protagonista in particolare la scuola di formazione Socrates di Sala Consilina ormai attiva da anni sul territorio e ben conosciuta entro i confini regionali ed anche extra regionali per la capacità di individuare le necessità formative dei cittadini giovani e meno giovani e di aiutarli ad intraprendere il percorso lavorativo più adatto alle loro esigenze. La scuola Socrates dunque nel suo programma di alta formazione e di formazione dedicata ha voluto aderire al progetto denominato Educare Insieme che rientra nella più vasta iniziativa progettuale denominata Outdoor Education, la scuola esperienziale nelle aree interne, realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Dipartimento per le Politiche della Famiglia. Il progetto, coordinato da Enzo Quagliano, vede come partner oltre alla scuola Socrates anche le associazioni di promozione sociale quali Avalon e Toco Festival, la Fondazione Monte Cervati Onlus e l'Associazione Nazionale per la Tutela dell'Ambiente ANTA. Entra dunque nel vivo il progetto con l'apertura e le iscrizioni alle attività laboratoriali gratuite che prevedono anche un accompagnamento didattico per i giovani che frequentano le scuole del Vallo di Diano. In tal modo le ore previste nell'ambito del progetto saranno utilizzate in parte per coinvolgere i giovani in attività di laboratori come ad esempio attività sportive e non all'aria aperta quali tiro con l'arco, escursionismo e trekking, fotografia, e-bike, mountain bike, alla cura di orti didattici ed ed educazione alimentare mediterranea ed ancora laboratorio di imprese green ed economia circolare, escursioni sul Monte Cervati e zone limitrofe, arte, cittadinanza attiva e tanto altro. I giovani inoltre potranno anche ricevere aiuto nella formazione didattica grazie all'assistenza di tutor che offriranno loro il necessario sostegno per superare eventuali difficoltà scolastiche. Le attività di doposcuola permanente con i laboratori, totalmente gratuiti, saranno attivi in modo permanente da settembre a luglio. Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi direttamente alla Scuola Socrates a Sala Consilina in via San Rocco.